190 pagine per rivivere la storia di uno dei più iconici luoghi di Rimini. Alla Cineteca di via Gambalunga è stato presentato il Picnic Resta, il tributo di Nicola Gambetti, presidente dell'Associazione Rimini Sparita APS, allo storico ristorante di via Tempio Malatestiano, nato nel 1965 e dove si sono scritte molte pagine storiche della città. Il Picnic era la casa dei riminesi, nonché un luogo di incontro per politici sportivi e giornalisti. L'ispirazione per il nome scaturì da un noto locale bolognese come Bolognesi, erano le origini del compianto fondatore Maurizio Bellini, ma anche dal fatto che una denominazione così breve abbassasse i costi della tassa pubblicitaria che all'epoca si pagava a seconda del numero totale di lettere. Dal 1967 a Bellini si affianca Benedetto Lamaida, detto Berto, e il locale cresce esponenzialmente, espandendosi anche fisicamente con un giardino interno per i mesi estivi e diventando anche nei weekend un punto di riferimento per la clientela con il servizio di asporto. Tra le pagine del libro di Gambetti dunque tanta storia ma anche un pizzico di nostalgia. Il libro nasce idealmente nella primavera del 2015 e Maurizio Bellini mi diede il compito, per me l'usinghiero, di scrivere un libro per i 50 anni del Picnic che era nato nel 1965. Purtroppo le vicissitudini di quell'anno terribile hanno portato purtroppo alla chiusura del locale e il progetto per fortuna è stato ripreso in mano pochi mesi fa da Pamela Lamaida, figlia di Bertino e socio di Maurizio. Per cui oggi finalmente siamo qua a presentare un progetto che era in divenire ma finalmente si è concluso. Sindaco, allora lei ha firmato la prefazione di questo bel libro, tanti ricordi legati al picnic soprattutto personali, no? Sì, tanti ricordi anche personali perché quella è stata la casa di tanti riminesi, è stata un po' una redazione giornalistica, un po' un palazzo della politica. Trovarsi al picnic era una sana abitudine per tanti riminesi e lui è stata anche per me la mia famiglia, infatti la cosa mi emoziona anche un po' perché con mio padre ci ho passato tante serate.